Questa è un'opera che ho visto parecchie volte quando sono venuta da Roma, perché io non ero nata ancora. La prima volta mi ha coinvolto veramente, se dico la verità. L'abbiamo avuta nell'87, l'abbiamo avuta poi varie mostre anche a Pordenone. Adesso era da anni che mancava in Friuli e per me è stata una cosa piacevolissima. Caterina, la figlia di Dino Basaldella, guarda ancora con amore e commozione una delle opere del padre, esposta alla Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone fino al 18 febbraio, assieme ad altre sculture e dipinti realizzati anche dagli zii. Dino, Mirko e Afro Basaldella, destini paralleli e intrecciati, curata da Davide Colombo, mette in evidenza i percorsi artistici e personali dei tre fratelli, suddividendo in quattro momenti il percorso espositivo. Soprattutto durante gli anni 30 è riscontrabile una maggiore vicinanza tra i tre fratelli. La mostra infatti apre con una sezione intitolata Esordio Comune, perché tutti e tre esposero con riconoscimenti critici alla Quadrinnale di Roma dal 1935 e alla Biennale di Venezia dal 1936, con opere molto vicine sia da un punto di vista di temi, di soggetti affrontati, ma anche da un punto di vista stilistico. E' poi sicuramente dal secondo dopoguerra in poi che le identità, le specificità di ricerca linguistica, artistica, di poetica si definiscono maggiormente e quindi magari le strade possono anche divergere maggiormente con anche delle sfasature temporali. Nei primi anni 60 è possibile individuare anche in opere, in linguaggi apparentemente differenti una medesima e condivisa propensione e attenzione per la costruzione architettonica e strutturale dell'opera. Prosegue dunque l'impegno di Monfalcone e della Galleria nella promozione degli artisti del territorio, con risultati che vanno al di là del successo locale o regionale. Il mondo dell'astrattismo non l'abbiamo già vissuto grazie alle relazioni che dicevo prima con Kandinsky quando abbiamo fatto la mostra di Kandinsky e le avanguardie russe. Lo abbiamo fatto anche con il futurismo di Krali, come l'abbiamo fatto anche contemplando musici piuttosto che lo spazialismo di Fontana. Ma, ovviamente, non ve lo svelo, ma ci sono già grandi idee per quanto riguarda il 24, il 25 anche per cogliere a pieno quella grande opportunità che è la capitale della cultura.